Il tempo di lavorare, non si muoere. Si vuoi, non si vedi, non si vedi. Non si vedi come questo, ma? E' un poco e' un'altra biazza, e' un'altra biazza. Non si muove. non c'è l'intervento di mangiare se vuoi fare un po' di pesante non c'è troppo no, non c'è proprio è inciudato e la sua popa la sua popa qua si te è bianco si te è molli si te è santo santo? santo, se tu sei piccoli ti dirai ancora il caldo Allora, ora ti vedo che adesso stai... No. Una dov'è essere urchata. E sotto i piccoli. Ok.